Sono in crescita i numeri dei contribuenti, famiglie o attività del Comune di Gubbio che non hanno pagato parzialmente o per intero la Tari, la tassa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Nel 2020, anno dell'avvento della pandemia Covid, la percentuale di morosi del tributo aveva registrato una flessione rispetto al 2019. Gli accertamenti inviati in quell'anno erano stati 2.120 per un importo di 317.000 euro, mentre nel 2019 erano stati pari a 2.383 unità. Nel 2021, ultimo anno oggetto di controllo da parte degli uffici comunali e gubini, si è registrato però un nuovo aumento dei contribuenti in ritardo con i pagamenti, situazione che è lecito pensare sia determinata dalle sempre maggiori difficoltà delle famiglie nel far fronte a spese importanti anche per il vivere quotidiano, a causa dei rincari e dell'inflazione che in Umbria è diventata piuttosto pesante. A fronte di circa 15.000 avvisi bonari nel 2021, gli uffici comunali hanno inviato 2.299 solleciti accertamenti, sia per utenze domestiche che non. Il Comune, per l'Atari, aveva messo a ruolo oltre 4 milioni di euro. È insoluto il 14% del totale. Mancano dunque all'appello circa 650.000 euro, cifra che corrisponde all'importo del tributo senza sanzioni, ovvero alla maggiorazione dovuta al ritardo o al mancato pagamento della tassa. A questa somma si aggiunge, come confermato dall'assessore Marco Morelli, la cifra di 230.000 euro che il Comune di Gubbio, nel giro del 2021 e 2022, con avanzi del bilancio, ha destinato ai nuclei più in difficoltà del territorio per il pagamento dell'Atari. In totale, quindi, alla voce tassa rifiuti, mancano quasi 900.000 euro di entrate.